Buonasera da Meteo.it. Nel fine settimana sull'Italia sentiremo gli effetti della perturbazione numero 5 di gennaio che si concentreranno più che altro sul nord sia in termini di piogge che di nevicate. Sul resto dell'Italia affluirà dell'aria calda che farà salire decisamente le temperature. Avremo un clima praticamente primaverile al centro-sud con temperature che potranno sfiorare punte di 22-23 gradi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato. Piogge al nord con nevicate sulle Alpi intorno ai 1300-1600 metri che si faranno più abbondanti tra sera e notte. Qualche pioggia anche in Toscana, nuvole sul versante tirrenico, prevalenza di sole sul resto dell'Italia. Nella giornata di domenica avremo ancora precipitazioni al nord e anche a carattere di rovesce temporali sulla Liguria arriverà ancora tanta neve sulle Alpi.